L'Elysio! Amico mio, aiutami a proteggerla! Ti ho aiutato, ma niente fermerà tutto questo. La porta deve aprirsi. Dopo tutto quello che ho fatto per te, ti prego, Hermes, ascoltami! La nostra amicizia è stata travagliata. Custode del bastone e fabbricante di chiavi. Hai fatto molto. Convinceremo Persephone ad arrendersi. Grazie. Andiamo, insieme. Termi! Patetico! È l'ultima volta che mi deludi, Hermete Trismegistro! Hermes! Basta! Il controllo di Persephone sull'Elysio deve avere fine. Ora! Ora! Persephone che mi ha dato che mi ha fatto, naturalmente il mondo, si non mi ha portato... Come in! Come in! Grazie. 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 Se tu sei prigioniera, dovresti sapere che è impossibile amare il tuo carceriere. Te lo chiedo per l'ultima volta. Lasciaci andare. Lasciami andare. Io ti amo, Adoni. E il vero amore è altruista. Vai. Tratta Frudita meglio di quanto tu abbia trattato me. Grazie, Persephone. Ti sarò grato per sempre. Sìi clemente con Alexios. Ora tocca a te. Non deve andare così. Lasciami uscire dall'Elysio. Adoni avrebbe scatenato una rivolta con o senza il mio aiuto. Menzogne. Persephone non devi controllare tutto. Sei libera di lasciar perdere. Forse puoi finalmente tornare a casa. Non sai nulla di quello che ho passato. Sono stata rapita dal tuo mondo. Non avevo altra scelta che appropriarmi di questo. Cosa? E questo è soltanto. Non è soltanto. Non è soltanto. Sì. Grazie a tutti.